Il dato che emerge dal big match della terza di ritorno della B2 femminile di volley e che, parla Bolo Cirignola e Star Volley Visceglie, l'hanno giocata con grande intensità e cuore. Vittoria ospite della capolista del torneo per 3-0. Sbagliato dire il contrario, eppure le fucsie hanno affrontato la numero uno al momento del girone con il suo sestetto abituale, dando qualcosa in più e mantenendo forte il tasso di gioco. Stessa cosa sulla sponda viscegliese, in cui la capitana Alti, insieme alle sue compagne di squadra, Costadinova e Civaldi, lotta anche nei momenti più difficili, come nel caso nel secondo sete in cui le fucsie avrebbero potuto pareggiare i conti, ma anche nel primo, perso 23-25 e il secondo ha i vantaggi 30-28. Terzo sete combattuto, ma un po' di errori da parte ofantina danno il via libera alla capolista Visceglie che chiude 25-19 e 3-0 finale, rafforzando il primato in classifica. Adesso un'altra settimana di allenamenti per preparare bene la sfida in trasferta del 3 marzo contro la Leone di Saltamura sette giorni fa, vincente 3-0 contro l'Accademia Benevento.